Grazie Giordano, buonasera a tutti, ringrazio ovviamente a Luis per essere qui e CEO for life, non posso che partire, avevo preparato un altro discorso ma visto i tempi e l'emozione devo dire di aver sentito gli studenti prima che andassero via i ministri, ecco credo che soprattutto l'ultima, adesso non ricordo il nome mi dispiace, che ha parlato mi ha emozionato molto perché il progetto Upquarter che abbiamo presentato qui nasce dalle esigenze che quella ragazza ci ha comunicato di vita quotidiana e parte proprio da esperienze del vissuto di tutti noi se pensiamo alle nostre città, ecco le città che noi viviamo pre-covid erano delle città di stampo industriale con flussi che partono dalle periferie e tutti i giorni alla stessa ora portano tantissime persone dall'esterno all'interno spopolando le periferie, spopolando i territori a volte lontani e avendo tra l'altro delle problematiche di congestione, di intasamento e anche di poco bilanciamento vita personale, vita privata che rendono tutto questo difficile. Allora perché il progetto Upquarter e che cosa significa Upquarter e che cosa possiamo fare per raccogliere quelle istanze così calorose allora il progetto Upquarter nasce dal fatto che oggi noi oltre le tecnologie 5G, oltre al tema del digitale oltre al tema della città abbiamo soprattutto in Italia una tecnologia che è lo spazio che non è stata connessa e abbiamo capito in covid qual è l'importanza di vivere delle esperienze in presenza toccando, vedendosi e coltivando. Lo spazio è ancora uno spazio di proprietà, lo spazio delle imprese, lo spazio dell'università, lo spazio della ricerca, lo spazio del commercio oggi vengono abitati da esperienze singole, tutte frammentate e non condivise. Allora che cosa dobbiamo fare a mio avviso? Noi dobbiamo trasversalmente fare in modo che lo spazio e in particolare il luogo, il genius luoci dei luoghi, ritorni al centro della nostra attenzione per attrarre competenze, motivazione e ingaggio. L'Italia è l'unico paese nell'Europa che ha la motivazione dei lavoratori al 5%, l'Europa sta al 10% e nel mondo siamo al 15%, quindi l'ingaggio delle persone che lavorano è bassissimo. Allora noi dobbiamo creare una rete, e questo è l'invito ai CEO qui presenti, che gli spazi ad uso ufficio possono essere abitati trasversalmente anche da dipendenti diversi, ma non fermarci agli spazi ad uso ufficio, aprirli agli spazi del commercio e aprirli agli spazi dei giovani, in particolare a cui oggi mi soffermo perché devono avere l'opportunità di vedere prima cosa significa lavorare in un contesto lavorativo, fare le esperienze in loco e fare delle esperienze in presenza contaminandosi con terzi. Questo è il primo obiettivo dell'apertura e condivisione. Poi abbiamo un secondo problema, che è quello dell'ingaggio. L'ingaggio è bassissimo, io credo che abbiamo bisogno di nuova, un'academy nuova, che è l'academy dell'engagement, cioè creare delle figure nuove e trasversali che permettono la relazione, permettono l'incontro, permettono quello che noi sappiamo ormai sarà un must da qui in avanti, che è una vita in costante apprendimento e per un costante apprendimento abbiamo bisogno di incontrarci con gli altri e di scambiare delle competenze. E terzo, l'ha accennato il Ministro Dadone, la cultura. Se noi non abilitiamo la possibilità di vivere esperienze diverse in momenti della giornata e quindi ritorniamo anche post-pandemia a un uso prevalente dello spazio, beh i territori, quei territori di cui accennava anche al Sud, non si ripopoleranno di talenti, di giovani e di vita locale e quindi questa trasformazione è una trasformazione che riguarda in particolare non lo spopolamento delle città, perché le città avranno sempre un'importanza importante da qui in avanti, ma probabilmente una ridistribuzione un po' più equa delle competenze nei territori di appartenenza anche in modalità ibrida. Per parte di un Upquarter significa unire le forze, soprattutto sull'SDG 16-17, unirle per ripensare le città e creare delle opportunità di gaggio e di motivazioni da qui in avanti. Quindi un invito trasversale a tutti a collaborare insieme e unirvi al progetto Upquarter. Grazie. Grazie Daniele, un grande applauso.